E' arrivato il momento dell'ultima puntata per la seconda stagione di Macari, una fiction dove la Sicilia è protagonista in tutto il suo splendore. Anche il cast è ricco di attori siciliani, stasera vedremo nei panni del cattivo l'attore alcamese Antonio Pandolfo. Quando c'è una produzione RAI o una produzione così importante o comunque nazionale, mi vedono come cattivo. Faccio il cattivo nella terza puntata di Macari, devo dire che comunque i testi di Savatteri sono pazzeschi. Poi c'è una squadra meravigliosa da Joel, Filippo Luna, Domenico Centamore che sono tutti attori bravissimi. Michele Suavi che è un regista ormai molto navigato, però devo dire che è una bellissima cartolina della Sicilia. Macari racchiude in sé un po' gli scenari di tutta la Sicilia e quindi merita, già solo per questo, merita di essere vista. Poi le storie sono molto interessanti, molto anche così intriganti e quindi è una bellissima esperienza. Com'è cambiata la comicità con la pandemia? È cambiata tantissimo la cosa, in sintesi, spero che ci si stacchi un po' dai supporti video, cellulari, televisori, computer. Per carità sono stati fondamentali durante la pandemia e meno male, ci hanno fatto compagnia e sono stati di grande sostegno. Però adesso dobbiamo uscire, venite a teatro, andate al cinema, andate a ballare, andate dove volete, ma cerchiamo di ritornare a una bella condivisione perché lì ci sono le risate più grosse, le risate più grasse, sono lì, stando con gli amici.